Buongiorno a tutti i miei nomi, benvenuti in questo breve aggiornamento del sabato Allora, volevo dirvi, nella scorsa settimana ho fatto un video in cui mi hanno dato un server Teenspeak che era ts.game-italia.it se non mi sbaglio Adesso quell'IP è cambiato e adesso si chiama ts.creativegaming.eu Mi raccomando, in descrizione c'è scritto in fondo la descrizione come ultima cosa Perché è la più importante, perché tutte le cose vengono lette o le prime o le ultime Quindi andate in fondo, c'è scritto, c'è scritto adesso, lo state vedendo tipo sparaflesciante verso di voi nello schermo E niente, vi invito a passarci che prossimamente, la prossima settimana È un po' una cacofonia, ma dettagli Nella prossima settimana, non sabato o domenica, questi ultimi due giorni Ma proprio la prossima settimana, l'avete capito? La prossima settimana ci sarà un raduno probabilmente Devo ancora stabilire il giorno perché non ci sarò solo io a organizzarlo Ma ci sarà un altro youtuber e forse riusciamo ad aggregare tanti piccoli youtuber Ovviamente due è più iscritti di me, quindi porterà più gente Sì, sto piangendo Comunque, spero che il video vi sia piaciuto In descrizione è tutto, come potete vedere Sparaflesciante l'IP TS.creativegaming.eu Ve lo siete messi in mente? Bravi perché, ma se siamo tanti Un giorno Step mi ci noterà E farà un video con... cosa? No, basta, non dire cazzate Niente, spero che il video vi sia piaciuto Link in descrizione, IP in descrizione E niente, d'attenzione di tutto Ciao a tutti Vi ringrazio per aver visto il video Qui in sovrimpressione vedete due riquadri Su quello a sinistra, video random E su quello a destra, video precedente Grazie per aver visualizzato il video Puff Grazie per aver guardato il video